Io prima del 7 farò un incontro, ho delle proposte da fare e poi ve le faremo sapere. Non si sbottone il governatore della regione toscana Enrico Rossi in merito al futuro di Arezzo Fiere. Intervenuto ad Arezzo in occasione di un incontro organizzato dal Partito Democratico, Enrico Rossi non ha rivelato i progetti e possibili sviluppi legati al futuro di Arezzo Fiere. Di certo al momento ci sono i dati che fanno della regione toscana l'azionista di riferimento e che ha investito oltre 35 milioni di euro sulla realtà retina, la più importante, sottolinea Rossi, per quanto riguarda il distretto orafo. Noi cerchiamo semplicemente, con grande rispetto, verso chi ha operato alla Camera di Commercio, di esercitare la nostra funzione. Noi siamo le azionisti di riferimento di Arezzo Fiere. Sulla base delle vostre sollecitazioni, prima Martini e poi anche Rossi hanno abbondantemente finanziato la costruzione e anche hanno ricapitalizzato più di una volta, abbiamo speso 35 milioni di euro, forse qualcosa di più. Adesso si va verso soluzioni diverse e noi ce ne vogliamo occupare, capire, dire la nostra, perché pensiamo che in ogni caso questa struttura e Arezzo Oro debba essere valorizzata e ne debba essere assicurata anche l'esistenza per il futuro. Ne abbiamo tutti i titoli. Arezzo è il distretto orafo più importante d'Italia e forse da un certo punto di vista, chissà, il più importante del mondo.